Davvero grazie a tutti i partecipanti per il contributo di idee che è stato dato a questo primo incontro che spero sia soltanto il primo di tanti altri che potremo organizzare insieme a parte quello che saranno gli incontri di carattere tecnico che sicuramente noi porteremo in essere quattro prima. Abbiamo dimostrato oggi con questo tavolo virtuale che su un tema delicato quale il traffico di migranti non esistono schieramenti contrapposti tra i vari stati europei ed africani ma solo partner responsabili con un unico obiettivo, quello di collaborare insieme. Occorre una visione di prospettiva che guardi ai fenomeni globali come le migrazioni che sappia intercettare e reprimere i traffici criminali che sia in grado di leggere le difficoltà degli immigrati come quelle dei paesi dai quali transitano o verso i quali sono diretti. Abbiamo quindi bisogno di un partenariato strategico ampio ed organico è per questo che un ruolo primario dovrà assumerlo la Commissione europea e quindi io davvero ringrazio la Commissaria Gioanzo per l'attenzione che ha prestato a questi temi e la cui presenza al tavolo è fondamentale. Quindi ora per riassumere secondo me noi dobbiamo intensificare la collaborazione di Polizia cercare di favorire forme di cooperazione operativa e sviluppare anche un'ampia possibilità di attività di comunicazione congiunta per lanciare campagne di informazioni sui rischi dell'immigrazione illegale lavorare in favore delle popolazioni locali, dei paesi di transito soprattutto per sviluppare dei progetti concreti in grado di offrire alternative valide al guadagno illeciti offerti dalle organizzazioni criminali quindi su queste linee credo che ci dovremmo muovere in vista di una nuova conferenza questa volta la potremo fare a livello alto livello tecnico in modo da avere delle modalità di intervento concrete e questo potrebbe svolgersi dopo l'estate quindi vorrei ringraziare nella chiusura di questa importante giornata non soltanto un ringraziamento da parte mia ma anche di tutto il governo italiano per la disponibilità dimostrata e lo spirito costruttivo con il quale avete garantito il successo di questa iniziativa grazie ancora a tutti i paesi, grazie in particolare alla commissaria Johnson che ha tanta sensibilità su questi temi e quindi su questo poi casomai faremo un incontro virtuale sempre tra di noi come abbiamo fatto durante questo periodo per dare concretezza anche agli elementi che sono venuti oggi al tavolo grazie a tutti